ciao amici bentornati in questa nuova parte di genshin in italiano account ricreato da capo con l'uscita di genshin italiano che stiamo facendo insieme questa se non sbaglio è la quinta avventura che proseguiremo oggi continuando l'arco in questa principale c'è stato qualche giorno di delay fra il video scorso e questo perché sono stata malata ancora non so benissimo infatti tossirò un po di volte avviso già però sono molto contenta di quanto vi stia piacendo di quanto siete amando questa serie tant'è che il primo video di questa serie ha superato le 5.000 visualizzazioni su youtube e per me è un traguardo gigante quindi grazie 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 come sempre vi ricordo che se volete vivervi questa esperienza in diretta io vi aspetto sul sito viola tutti i conmeriggi alle 15 come siamo adesso dove appunto i ragazzi stanno scrivendo qui sotto ma mi invito anche a seguirmi su tutti gli altri social instagram per gli aggiornamenti e ricosplay tiktok per i tiktok dedicati ovviamente a genshin twitter per comunque tutte le news più recenti e anche sull'applicazione ufficiale di oilab che è quella appunto creata appositamente il social creata appositamente per genshin impact tanto trovate tutti i link nell'info box detto questo adesso ci lanciamo a continuare l'arco in questo dove ci eravamo fermati allora io ragazzi ho fatto giusto una piccola miglioria piccola 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 l'altro giorno facendo la r insieme ci hanno regalato la prototype rancore dal prototipo del rancore e l'ho portata al 20 giusto per rendere leggermente almeno ginn leggermente dps e se ricordate bene la volta scorsa abbiamo anche fatto la la cosa le daily abbiamo sbloccato le daily e infatti si possono fare adesso abbiamo appunto la possibilità di fare le daily lo vediamo qua sugli incarichi oggi vedete 4 di 4 perché prima di fare la live visto comunque le daily li portano via 10 minuti e la nostra guida è una guida che dura un'ora alla settimana che poi appunto carichiamo su youtube ho detto le faccio già prima per non perdere questi minuti quindi le daily di oggi le ho fatte sono quasi al 15 sono nella seconda metà del 15 quindi comunque stiamo procedendo e con l'arco in questo ci siamo fermati in un punto abbastanza interessante perché stiamo andando ad un altro tempio a cercare appunto vai dalla tribù dell'eclisi della valle da daupa e stiamo parlando delle famose lacrime di dvalin quelle lacrime rosse che non si sa come mai il traveler stresso quindi noi è in grado di purificare e siamo rimasti la adesso dobbiamo andare in quest'area qua io per fortuna ho fatto un pochettina di esplorazione e quindi grazie al cielo come potete vedere ho il teleport sbloccato grazie al cielo se no dobbiamo farci una mega scarpinata e proseguiamo c'è una cassa ma proprio nel niente c'è nemmeno un nemico che la stava controllando ok procediamo quest'area poi c'ha tutto un meccanismo particolare che regala anche una cesta di grande rarità ma questi sono tutti i meccanismi che non rientano nella storia principale quindi magari a tempo libero si potrà anche sbloccare non adesso io ovviamente ho già fatto un po' di meccanismi sparsi per la mappa di monstad ho aperto un po' di casse di qua e di là un po' di roba ho fatto qualche quest di quelle come questa illuminata nella mappa azzurra che sono delle quest secondarie alcune sono missioni avventure altre sono missioni del mondo quindi world quest queste cosine qua ovviamente off live un po' le sto facendo per portare sull'account perché vedrete che fra un po' all'inizio è tutto molto dinamico superato il livello 20 e qualcosa del genere noterete che poi servirà tipo il livello 25 per continuare la storia e 5 livelli non si farmano tanto velocemente sì ma no comunque Luca Silvian grazie per il follow benvenuto in live quindi questo è importante da tenere di conto che adesso si farma tutto molto bene però poi dopo l'esperienza è importante quindi comunque mettermi a farmare già da adesso un po' e livellare il rango avventura è importante per procedere velocemente nel gioco bene possiamo andare eccoci qua kamikami grazie anche a te per il follow ben arrivata ok apri il baule per ottenere la lacrima di dvaline che è stata praticamente rubata da questi tipi quindi cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo metterci a menarli e così sia meniamo questi tipi questo come tutti quelli che vi ho detto che ha lo shield c'è bisogno di elementi per buttarlo giù una volta che abbiamo tolto lo shield possiamo menare tranquillamente con jean che è la nostra in questo momento main dps anche se lei non è una main dps ma arriva a tirare anche dei 100 di danno quindi vi giuro è veramente utilissimo cioè bellissimo la verità mi sono appassionata a genshin grazie luca ma che carino ben arrivato nella community spero che ti troverai bene genshin è un gioco che in questi anni mi ha regalato tanto sia da un punto di vista di crescita come persona che fa questo nella vita sia da un punto di vista proprio come crescita personale è stato comunque un bellissimo viaggio quindi sono felicissima di avervi qua con me è un piacere conoscervi questo ragazzi è uno di quelli che invece ha lo scudo come vi ho detto per buttare giù lo scudo serve bruciarglielo o utilizzare le claymore ma io la claymore in questo momento in team non ce l'ho e quindi pensiamo a bruciare lo scudo lo scudo pende fuoco lui inizia a lamentarsi oi 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 brucia brucia e là ce l'ha spento però sto maledetto cosa speggi lo scudo scusami facciamo così facciamo così ecco qua ecco qua scudo tirato giù e adesso ci pensano gli altri tra l'altro ricuriamo anche tutto il team la cura di jina nonostante siamo all'inizio è eccezionale per avere comunque un po' di sicurezza si arriva ovviamente ragazzi tutti nuovi mi trovate anche su tutti gli altri social questo video finirà su youtube quindi quello che voi scrivete qui sotto lo vedremo poi anche nel video di youtube e poi ovviamente instagram, tiktok, twitter, la app della voglia eccetera quindi vi aspetto un po' ovunque bene l'abbiamo eliminato ora sono arrivati i rinforzi e i rinforzi sinceramente non li stavamo aspettando ma ci hanno ingaggiato ecco c'è lui per esempio e questo tipo non era non era stato contemplato nella nella missione di per sé ma visto che qui tanto vale farlo fuori e via e che rinforzo c'è sto tipo no in realtà ci sono anche altri che mi hanno visto e sono tipo là ma io non so come ecco non mi stanno più aggrande oh si mi stanno sparando ma guardate questi abbiamo fatto una parte della quest e vi dicevo prima ci sono vari accampamenti intorno a quell'area sbloccare i sigili e gli accampamenti vi permette poi di sbloccare l'area centale ciao Raiden buon pomeriggio ed eccoci qua dai nostri nuovi amichetti lumine609 grazie per il follow benvenuti in live anche a te sono molto in hype ragazzi per la prossima patch anche per questo account perché finalmente pulleremo pulleremo le prime emergenze che stiamo farmando in questi primi livelli di gioco tutte nella prossima patch perché abbiamo scelto appositamente di schippare questa perché diventava troppo difficile poi farmarsi i materiali di ascensione quindi finalmente anche su questo account ci sarà una piccola pullata ciao Hammer buon pomeriggio scusate bevo oggi mi vedrete un po' così non sarà un gameplay linearissimo come in altre situazioni ma ragazzi sono costretta ogni tanto a bere un po' sono stata malata ho avuto un brutto mal di gola ok vedete ecco qua abbiamo sbloccato la cassa centrale e qui dentro troveremo la lacrima eccola qua lacrima di cristallo perfetto missione completata e adesso cosa ci dice di fare? aspettiamo che carichi andare nella prossima area che è questa qua alla Down Vinary dobbiamo andare adesso qua al vigneto prima luce decisioni circa che sto facendo una full immersion mi sta piacendo un sacco ovviamente va a capire tutto noi siamo qui apposta noi siamo qui apposta bene quindi noi ci spostiamo poi tutta la parte di sbloccare tutto il resto lì la farò ovviamente off live quindi è il momento di procedere con la storia e andiamo alla Down Vinary che per chi non lo sapesse è la riserva di vino o meglio la vigna in cui viene prodotto il vino di un signore che noi conosciamo abbastanza bene siamo contenti di fare le feste col coso ma in realtà sì perché sto rivivendo la storia in italiano che non avevo vissuto quindi però ora proprio con questo soggetto un po' meno però che ci vogliamo fare c'è anche lui Zappavigna Zappa che dice Zappavigna veramente queste classi eccoli qua ragazzi c7 c7 evviva squadra di potere di protezione di Dvalin raccolta mettiamo assieme i nostri cristalli oh questi cristalli hanno un colore torbido Dvalin sta soffrendo così tanto per prima cosa purifichiamo questi cristalli dammi una mano Maui è difficile credere che una cosa del genere sia anche solo possibile finché non la vedi con i tuoi stessi occhi un attimo di morte tutto quanto muoio mentre loro si rinfrescano col vino ottimo direi che abbiamo abbastanza lacrime ora possiamo usare il cristallo sulla lira sacra come l'ultima volta no no non muoio ragazzi non muoio sopravviverò prenderò una caramellina che è un'ottima idea caramellina in live e ora e ora sto bene quindi immaginatevi come stavo i giorni scorsi purifichiamo ci vale benagol meno male ci sono le benagol ha funzionato sembra completamente diversa rispetto a prima il potere di animo della lira sembra essersi lì cristinato del tutto ora dovremmo riuscire ad utilizzarla 21 pilati grazie per il follow benvenuti in live ed è solo grazie a te ma la domanda ora è dove vochiamo terrore alato deve essere un posto lontano dalla città o causeremo molti feriti in caso dovessimo fallire magari qui al vigneto se il vigneto venisse distrutto credo che sarei in grado di rimetterlo in sesto non credo quel tempo ma è un disturbo che preferirei evitare ha ragione anche di Luke il vento che soffia sul mare o nei punti più alti può trasportare le parole del bardo molto lontano se l'aria è troppo secco soffocante non funzionerà mai Paimon capisce ma aree o punti più alti giusto? il miglior posto perso dall'alire allora sarà un promontorio? se prosegui est dal lago stellare a sud della spiaggia troverai delle montagne ah sarebbe la spiaggia dove hai preso abbiamo parlato con Paimon di vostra sorella verso il luogo in cui si protende il promontorio si trova un posto noto come promontorio a chiappastelle cosa ne pensi bardo? è il posto giusto fammi pensare il promontorio a chiappastelle va bene proviamo lì perfetto allora ci vediamo al promontorio a chiappastelle una volta pronti non fate tardi sì signora scusami scusami non volevo gin che fa la minaccia anche senza minacciare eccoci qua vi giuro io tra l'altro questo punto della storia l'ho un po' rimosso vi giuro proseguiamo promontorio a chiappastelle starnac starnac vediamo un po' Alex tu non ce l'hai? pensa che io il tipo rosso sono riuscita a farlo c7 l'ho anche reso un po' di stal il glitter ok dobbiamo andare adesso in cima al promontorio ci facciamo una bella scampagnata ragazzi ci rigodiamo monstead che penso è una cosa che nessuno di noi a parte chi è nuovo sta apprezzando da tanto la bellezza anche semplicemente delle colline intorno a monstead ci si fa polpacci esatto ha fatto tutta questa scampinata ci si fa sì che ci sono i polpacci proseguiamo qui ci sono altre di quelle pietre che si rompono solamente utilizzando attacchi pyro contro è utile saperle queste cose quindi le ripeto sempre perché non so mai se questo è il primo video che qualcuno di questa serie vede magari qualcuno di voi vede i primi e poi non vede quelli dopo ciao Gabriele o magari vede uno degli ultimi e poi si recupera gli altri però questa è una nozione che viene a sapere quella volta ok possiamo procedere ecco io non lo sapevo ecco adesso lo sai attacchi pyro elementali quindi o usi le o se no utilizzi l'attacco caricato degli arcieri i sesilia servono per ascendere 20 tra l'altro se ce l'avete 20 o volete prenderlo comunque usando l'attacco normale dei catalyst che è sempre un attacco elementare quello dei catalyst eccoci qua qui ci sono altri sesilia eccoli uno due tre quattro in realtà la rutto diventi la sua memoria perché l'ho fatto un sacco di volte finalmente siamo tutti qui che bel panorama perfetto per una riunione tanto attesa no bene tiriamoci pronti vada come vada sembra che finalmente le cose stiano volgendo al meglio monstrad di recente ne ha visto di cotte e di crude ah alla fine per risolvere il problema è bastato il vostro aiuto immagino che anche i cavali di favonius abbiano avuto un certo peso oh lo sappiamo padron di look ora fatevi da parte io miglior bardo esenerante del mondo dei mortali darò inizio ad un'esibizione con la mia lira Sara che feels ragazzi ciò che è fatto non può esserti sfatto stanno comunicando ecco il cattivo mamma mia l'omiel sono d'accordo sono molto d'accordo e ciao Artemis tutti vorrebbero un valin domestico barba venti fai attenzione da un po' che hai capito la mia vera identità non è così Jin ti ringrazio comunque per aver continuato a chiamarmi venti in che stato è la lira sacra può ancora essere suonata o va riparata purtroppo non credo si possa riparare Dvalin è in serio pericolo no dobbiamo prima farla pagare a quel mago dell'abisso se non se non stilpiamo il male alla radice guardate Diluc come è illuminato non riusciremo mai a salvare Dvalin in questo caso chiederò ad Amber la vicilante di inseguirlo non ce n'è bisogno perché? ne ho eliminato uno qualche tempo fa in uno dei tempi dei 420 cosa? quando? se vuoi inseguire quei mostri cercherò informazioni tra i miei contatti i mezzi non mi mancano Diluc puro di anni cavaliari favonius anche lui protegge Mondstadt seppur a modo suo perché la piccola palma dall'improvviso sembra così affettuosa? bah aspetta mia notizia farò in modo che l'ordine dell'abisso sappia che il suo palese disprezzo per Mondstadt non rimarrà impunito ebbene sì ta-da riconosciete una certa persona qui? maestà il suo umile servo ha fatto ritorno la mia notizia è completata dominio e la forgiatura sbloccato affronta le sfide del dominio questo è molto importante il livello 15 vedete? per proseguire l'arco in questo caso dobbiamo fare il livello 18 quindi che cosa ci dice? che per farlo dobbiamo fare queste secondarie portare su il libro aprire le casse fare i domini eccetera eccetera per questo era molto importante per me continuare un po' a farmare perché comunque mi sono portata avanti lo stesso di qualche livello per la prossima volta arriveremo al livello 18 così che continueremo l'arco oggi ovviamente non possiamo arrivare al 18 quindi continueremo facendo altri tipi di cose prima di tutto abbiamo i domini sbloccati e questo diventa molto interessante come prima cosa disponibile che possiamo fare detto questo un'altra cosa ci è stata data nell'inventario che è questo è praticamente un oggettino che vi faccio vedere come è nell'inventario perché ci sono sopra io un oggettino se lo trovo non so in che lato viene tenuto per adesso probabilmente dove sta nell'inventario non c'è nell'inventario non c'è comunque è uno dei materiali che serve per potenziare le costellazioni di costellazioni non abbiamo mai parlato le costellazioni sono praticamente queste qua queste simboli che vanno proprio a formare una costellazione che rappresenta un animale o un qualcosa che sono dei boost per i personaggi che però a differenza degli artefatti o delle armi che voi applicate o dei talenti che voi portate su eccetera eccetera la costellazione la potete potenziare ottenere solo se ritrovate il personaggio quindi io potrò sbloccare la costellazione 1 di Jin solo se troverò un'altra Jin quando pullerò in futuro in qualsiasi momento quindi ovviamente questo la significa che per i 4 stelle è più semplice che per i 5 stelle costellarli però comunque bisogna trovare altre copie dello stesso personaggio per costellare il traveler ovviamente il personaggio iniziale è un personaggio che non si può ripullare quindi facendo semplicemente la storia di Monstad potremmo sbloccare le sue costellazioni la sua costellazione 1 è il vortice furente che cosa fa vortice del palmo che dovrebbe essere la E attira gli avversari e gli oggetti in un raggio di 5 metri praticamente la costellazione 1 che noi adesso sblocchiamo e la attiviamo funziona un po' come la E di Gin anche la E di Gin essendo una caricata attira le cose ed è questo che fa la C1 del traveler per semplicità costellazione numero 1 noi la breviamo in C1 quando perderemo un 50 e 50 o quando uscirà sul permanente a me alla fine questa Gin è uscita sul permanente quindi potete vedere qua abbiamo il lucchettino che ci dice che l'arco in questa non la possiamo fare ma abbiamo un po' di queste più semplici così che possiamo fare tranquillamente e metterci a farmare allora abbiamo sbloccato i domini io volevo andare proprio a fare una prova elementale se questo è sbloccabile no bisogna fare il 16 manca pochissimo per fare la prova elementale in compenso però penso di poter fare questi qua tipo questo penso che lo possiamo fare adesso il tempio del lupo che dà un po' di esperienza da anche materiali se è del livello opportuno per farlo potremmo iniziare a fare questi domini vediamo se siamo arrivati al livello no ho raccomandato 25 ah no livello gruppo però non noi cioè i personaggi del team dovrebbero essere al 25 me sono ancora un po' troppo indietro forse per fare questo sono forse un po' troppo indietro forse per fare quello del falco invece possiamo vediamo un po' paverso 95 grazie per il follow benvenuti in live livello raccomandato 20 ecco potremmo pensare di farlo sinceramente potremmo farlo questo almeno ci facciamo un dominio adesso abbiamo sbloccato la possibilità di farli a livello 6 ci potremmo sbloccare anche quelli elementali allora questo dominio lo riconoscerete è quello che abbiamo già fatto infatti faremo molto velocemente come ho fatto per amber all'inizio proprio il primo dominio il dominio del falco poi l'abbiamo fatto all'inizio inizio inizio ci sono delle particolarità delle cose diverse adesso un po' più un po' più ingegnoso rispetto a com'era quello base però il percorso se guardate è lo stesso qua ci sono i nemici qua sotto da menare però qua funziona diversamente c'è da colpire queste cose qua dobbiamo averlo spento se no colpiamo quello che dovrebbe spengerlo e lo stesso facciamo qui sotto ecco qua ciao gran bene arrivato sbloccato tutto apriamo la porta sono i domini quelli iniziali molto semplici però sono carini e non è perché ci siete andati una volta con la storia principale non dovete rifarli una seconda volta vanno rifatti ciao amiche buon pomeriggio qui abbiamo un po' di nemici da affrontare e la cosa non ci dispiace almeno ci mettiamo un po' in azione che fa sempre bene mi raccomando consiglio personale dove come potete sfruttate sempre le reazioni elementali perché i vostri danni aumentano veramente tanto grazie alla presenza di reazioni elementali e sfruttate l'ambiente circostante ci sono i barili rompeteli fate esplodere tutto mi raccomando frizzare i jim per adgrupare tauntati dal personaggio di Amber allora prima di tutto potremmo eliminare l'arciere che sicuramente è quello a cui faccio più male esatto l'arciere lo salutiamo proprio e comunque abbiamo i pg sottolivello rispetto alla zona in cui siamo però siamo comunque in linea ragazzi ce la facciamo tranquillamente quindi fatto ho trovato Raiden oh che bella notizia questa complimenti qui c'è una cassa dietro possiamo procedere di qua qui è diverso dobbiamo colpire questi simpatici ecco io l'unica cosa con cui non ho dimestichezza è l'arco ragazzi l'arco negata vi giuro ce la posso fare è più forte di me ok adesso lo prendo uh c'ero quasi grandi mire qua eh bam perfetto possiamo andare no Amber è caduta da sola Amber ma che ti hai detto di cadere me le mani dobbiamo ricolpirli sennò ci stavamo un quarto d'ora qua e procediamo si flana attraverso correnti ascensionali e arriviamo qua su in cima fatto questo ci faceva l'agguato e noi lo riempiamo ciao amo bentornata come è andata qui ci sono dei simpatici amici credevo che lo attiravo prima che lui mi colpisse mio errore di calcolo si vede che Jin la uso poco sul principale ero convinta facesse una roba diversa ora ho fatto più veloce io però amico ok seguiamo ve l'ho tirato sopra ok ovviamente se questi non li uccidiamo entro un totto come probabilmente succederà adesso si rimettono lo shield poi esatto vedete basta ritiraglielo giù con l'elemento quindi non è una cosa molto compliata però però c'è da tenere conto anche di questo che entro un totto di tempo poi se li rimettono ok va bene ok distrutto e abbiamo fatto abbiamo preso una chiave ora vi dico che cosa serve questa chiave che c'è anche questa cosa da tenere di conto ciao Yoshi ben arrivata allora abbiamo ottenuto una chiave che finisce nel nostro inventario 40 primos un po' di esperienze eccetera ma perché volevamo questa chiave perché noterete che ogni tanto al giro per la mappa in alcuni punti ci sono delle specie di portali delle specie di portali e questi portalini uno mi ricordo dov'è forse mi sembra fosse qua li ho un po' rimosti perché non mi vado via si aprono con queste chiavi si aprono con queste chiavi quindi è utile anche per quello è utile anche per quello ora le prossime volte lo rifarete non vi dropperà niente ovviamente non è che vi ritroppa chiavi eccetera ok chiave questo abbiamo fatto quanto ci manca al 16 penso poco poco eh ah no abbiamo fatto ora il 15 però abbiamo ricompensa grado avventure ce l'andiamo a prendere ok procediamo andiamo a prendere le ricompense che ho d'avventura e via ciao ginger ben arrivata allora ecco qua 15.000 dimora questo frammentino qua così e così quando ci sono i valori i i cosi i i bauli i bauli avvolti dei rami come ho fatto io basta usare un attacco fuoco un attacco fuoco per bruciare i rami logicamente ed è fatta allora parliamo con Ketani che ci dà una missione ci sono nuovi incarichi sei avventurieri ormai tutta mossa da parla delle sue fantastiche imprese continua così e verrà ricordato come uno dei più avventurieri più grandi tutta l'epoca hai un incarico per me ogni avventuriere che mira di una grande fama deve ampliare la sua zona di comfort a un certo punto per mai puoi vantare di una grande esperienza per quanto riguarda le avventure forse è tempo di esplorare qualcosa di nuovo prendi questa lettera e consegnala a Kathleen di Lue c'è una Kathleen di Lue? sì sono certa non avrai problemi a trovarla comunque sia una volta consegnata questa lettera a Kathleen di Lue il punto di contatto per le nostre avventure future sarà lei naturalmente ogni volta tornare a mossa sarò felice di poterti aiutare io chiederei di un aprire la lettera lungo il tragitto se qualcosa al suo interno si perdesse sorgerebbero parecchi problemi avventuriere è il momento di compiere il passo successivo verso le stelle e l'abisso ad Astra Bissok quindi e così ci fa vedere se noi apriamo la mappa che dovremmo andare a portare questa lettera qua praticamente a una tipa che è qua quindi ovviamente per il momento non ci andiamo però sappiamo che abbiamo questa missione adesso andiamo a fare altre missioncine di queste extra più semplici parliamo con Timo saluti sono Timo ricercatore di alchimia ti do benvenuto a Mossad alchimia l'alchimia è una parte tramandata fin dall'antichità ma ancora oggi viene compresa a malapena i suoi meccanismi sono magici e misteriosi ed è subito full metal alchemist diversamente dai principi che regolano la comprensione del nostro mondo fisico se riuscissimo a comprare capirne i segreti potremmo realizzare creazioni favolose questo deve essere il tuo tavolo da lavoro di alchimia esatto perché non hai fatto un tentativo vuoi far qualcosa altrimenti a qualcosa non temere il processo è semplice in realtà se ti interessa posso mostrarti le basi e ci apre così questo bancone qua ragazzi per i nuovi sappiate che questo bancone qua sarà uno dei vostri punti di riferimento costante perché in questo bancone potete fare tantissime cose potete craftarvi materiali avendo i materiali a rango due stelle se ne avete tre potete convertirli a rango tre stelle quindi in quelli più rari quindi vedrete che quando vi serviranno cose per ascendere i personaggi tornerete spesso qua se no più avanti vedrete che sbloccheremo un particolare tipo di resine che possono essere condensate e quindi si può sfruttare due drop in uno facendo una sola run in un domain si otterranno due drop invece che uno e per farli vi servirà a venire a condensarle proprio qua ma oltre a questo abbiamo anche questa qua un'altra chart intera in cui qua potete convertire invece questi frammenti che per ora non abbiamo ancora mai trovato perché si ottengono uccidendo i boss che è una funzione che ancora non abbiamo sbloccato quella dei boss non c'è stato ancora parlato di farlo per di più altra cosa c'è da dire si sbloccherà un'ulteriore pagina lassù in alto che adesso non vedete che vi permetterà di craftarvi gli artefatti per alcuni domain se avete artefatti che non utilizzate brutti potete fondere per farne di nuovi magari migliori vedete ci sono materiali fa vedere tutto quello che vi serve per fare le varie cose è veramente semplicissimo il meccanismo forte in realtà stiamo seguendo i metodi degli antichi nel modo migliore possibile buonasera cos'è allo stesso modo in cui chi usa un aliante non ha bisogno di capire come è stato costruito per riuscire a planare la differenza che l'alchimia è che ogni volta che penso di aver finalmente capito come dovrebbe funzionare succede qualcosa di totalmente inaspettato quali altri usi all'alchimia? se devo essere onesto con te non lo so ci sono tante altre misteriose ricette su cui devo ancora prima svolgere delle ricerche nel corso delle mie avventure potresti trovare gli appunti di altri alchimisti risalienti a civiltanti e man mano che il tuo gradd avventura aumenterà avrai a disposizione tante altre ricette grazie alla spiegazione non c'è di che non vedo l'ora di sentire altri racconti delle tue imprese beh alla prossima allora che il vento porti fortuna al vostro cammino mini quest fatta che ci ha praticamente sbloccato questa modalità adesso tutte le volte venite a parlare con i vari team presenti ovunque andate qua su crea e vi apre la crafting table e voi vedete abbiamo i materiali necessari per convertire dalla forma grigia che è quella meno rara ad uno un pochino più raro e ve ne serviranno tre ci sono alcuni personaggi che hanno dei buff specifici che vedete in questa sezione qua nessuno dei miei di ha per ora che vi permettono di avere una bassa probabilità di ottenere due volte il materiale che state farmando quindi raddoppiare il quantitativo o se no alcune volte invece di ridarvi indietro una parte dei materiali che avete utilizzati come se ne servissero meno quindi ci sono anche queste cose a tenere d'occhio e poi volevo parlarvi di una cosa molto importante perché qua sono comparse livellando un sacco di menu un sacco di menu a parte che questo qua abbiamo fatto quasi tutto l'ultima cosa che otterremo sarà un arco di favonius a livello 18 ma scendendo vedete che ci sono questa un indoferverente barbara ci verrà data una missione a livello 18 praticamente finendo la missione completando la missione otterremo una barbara una copia di barbara barbara è uno dei miei healer preferiti di tutto il gioco è stato il mio primo cosplay ed è veramente forte quindi sono molto contenta ma oltre a questa non è l'unica che potremo ottenere perché scendendo facendo l'abis che ancora l'abbiamo sbloccato raggiungendo la sala 3 del piano 3 e completandolo otterremo shaling sempre un personaggio di grado 4 stelle di tipo pyro lancia che ha un sub dps ma è molto utile è stato uno dei primi personaggi che io utilizzavo nel mio team tantissimo l'ho utilizzata lei fishel barbara e venti erano il mio team iniziale quindi anche lei è molto carina e da poco a questa parte hanno aggiunto che completando la sala 3 del piano 4 potremo otterrire anche una copia di con lei con lei personaggio 4 stelle sempre in questo caso è un arco ed è dendro è stata introdotta perché con l'arrivo della 3.0 che è arrivata al 24 di agosto di quest'anno è stato introdotto un nuovo elemento che è l'alimento dendro che fino a questo momento esisteva in gioco per alcuni nemici ma noi giocatori non potevamo utilizzare i personaggi dendro non potevamo utilizzare il dendro proprio come elemento quindi per avvicinare anche i nuovi player come questo account e tutti voi avete iniziato da poco al mondo di Genshin in tutta la sua totalità hanno deciso facendo fare appunto la sala 3 del piano 4 completata di darvi un personaggio che il dendro ce l'ha per sfruttare anche questa reazione perché è stato visto una reazione molto utile e poi ci sono questi che io ho fatto fly come vedete c'è lo stick per provare i personaggi di questa patch fatelo sempre anche se non dovete pullarli perché comunque 15.000 dimora e varie ricompense che possono essere utili libri per l'ascensione e 40 primogenes anche queste non si buttano mai via ragazzi 40 primogenes sono sacre non scherziamo sono sempre risorse gratis bene facciamo un'altra missione esplora e sblocca il tristigillo cosa bisogna fare? il cimitero delle spade della valle data umpa data umpa non data umpa colanzone è diventato a tutti i lati da tre diverse tribù di Edicurl sembra che nelle vicinanze ci sia un membre della gil degli avventurieri vai a parlare e scopri cosa sa allora è quella zona dove siamo andati prima questa qua questa qua ci sono questi accampamenti qua che sono intorno a quest'area ora io non so appunto preciso dove è il tipo ma so come sbloccare le tre aree quindi andremo a fare questo adesso ai vari accampamenti allora in altra cosa qua ci sono ovviamente i fantasmini sopra le colonne che devono essere direzionati all'interno di questi tre uno è qui sopra uno è là e uno è là questo è abbastanza intuitivo o uno arriva in quest'area se ne rende conto da sé però per semplificarvi il processo voi salite sulla colonna lo spiritello si muove arriviamo qua e si va a posizionare qui e questo è il primo andiamo a prenderci anche il secondo vedete che tanto di Genshin Impact è anche questa parte qua all'inizio avete trama su trama in maniera abbastanza dinamica poi quando ragionete intorno alla R20 ci vuole del tempo per continuare trama e quindi dovete esplorare tanto quindi io come mio consiglio vi dico se amate l'esplorazione è il gioco giusto per voi se l'esplorazione è una cosa che non vi fa impazzire non è che non ve lo consiglio per carità io lo consiglio a chiunque però mi rendo conto che può essere un po' una parte più noiosa personalmente uno dei miei punti preferiti è quello di esplorare è andato? o è sempre più sopra? poi faccio a farmi notare da questo ci plano da lì ci fa ci plano deve arrampicarci non mi vede se no lì è troppo in alto oh non l'ho preso io è una cosa che amo fare ragazzi e non lo faccio tanto in live perché l'esplorazione è un momento un po' non intimo però anche si nel senso vado con i miei tempi senza dover giustificare ogni mia mossa e quindi mi piace per questo esplorare lo faccio quando sono tranquilla mi metto tipo al computer o sarò su discord magari appunto con loro della community e chiacchieriamo nel frattempo e quindi insomma faccio coincidere l'esplorazione al mio semplicemente dedicarmi a stare con i miei amici o se no in alternativa no posso farci anche da questa però se mi arrapico senza nessuno in silenzio o con la musica del gioco stesso in sottofondo o se no con musica mia in sottofondo e vado a giro sblocco le casse sblocco i meccanismi e tutte le altre varie cose è sicuro che è veramente bello vediamo se da qui basta credo di sì dovremmo arrivarci precisi l'orietta l'orietta sicuramente per fare l'abis ecco qua cassa preziosa quindi un sacco di belle ricompensine che ci prendiamo esperienza fatta andiamo qua all'accampamento il gioco è per fare l'abis eccoci arrivati ad un altro accampamento anche qui abbiamo da menare gente e attivare questo portare poi vedete che belle reazioni mentali c'è il ghiaccio di ikea c'è il bagnato in terra è fatta distruggiamo tutto qua apriamo la nostra cassa e attivando con fish questo portalino qui sblocchiamo adesso questo secondo cerchio da ci manca soltanto quello più centrale ora però c'è un po' di gente che mi sta sparando contro mi sto un po' offendendo sinceramente anche perché mi stanno prendendo da tre punti diversi va bene allora vado a fare il culo a tutti e tre è giunto quel momento e poi per chiudere un bel plank in testa e uno andiamo al secondo perfetto divertente così e di qua tanto c'è un altro laggiù che ci sta mirando quindi c'è anche lui spam eccoci qua andiamo non inizia da gioare a Genshin mi scocciavo di combattere gli isoi davanti alla stata perché diceva era troppo difficile quelli iniziali quando ti spiega come funziona l'evento animo perfetto allora qui ovviamente ci torno perché c'è come vedete sul simbolo della mappa una Nemoculus e sicuramente c'è qualche altra cassa ecco qua ad esempio ce n'è una però ora per non perdere tempo proseguiamo vediamo se andiamo al terzo accampamento mi sembra sia che io vuol portare il terzo accampamento se non sbaglio qui c'è gente che dorme non disturbiamo l'educazione prima di tutto quindi e andiamo di qua troppi main dps Alex il main dps in team deve essere uno solo tu ne hai messi tre praticamente ciao Simone quindi devi scegliere chi vuoi che sia il tuo main dps eccoci qua andiamo al terzo accampamento ciao Fabio ben arrivato ben arrivato io gioco dal day one il giorno in cui è uscito il gioco sono content creator ufficiale e ho creato un secondo account un po' per consigliare e aiutare tutti i nuovi tra l'altro ragazzi la fortuna ci ha voluto bene c'è proprio uno di quei templi di cui vi parlavo ecco qua la chiave che abbiamo sbloccato nel domain prima serve per questi templi qua ora io me lo segno sulla mappa così poi posso segnarmi che questo l'ho sbloccato mettiamo il fiorellino però basta andare qua con una di quelle chiavi date la chiave c'è questa animazione molto carina in cui la porta scompare e dentro c'è una luxurious chest cioè un bollure lussuoso di quelli veramente top con un sacco sacco di ricompense esperienza 40 prime roba grossa insomma per qualsiasi cosa ragazzi nuovi punti scavativo discord per il discord lì c'è sempre qualcuno che vi consiglia e vi dà una mano o in alternativa punti scavativo social e avete tutti i link il mio instagram il mio youtube dove ci sono le guide l'instagram per sapere quando ci sono le live e tante altre cose eccoci qua ammennare gente non so se sono ancora in grado di farlo questo eh sono sincera ho paura che non sono ancora in grado questo cura gli altri se c'è questo maghettino qua blu toglietelo sempre perché genera un'area di pioggia che cura gli altri che è di un fastidioso che non ve lo sto nemmeno a dire vi giuro eccolo ecco ce n'è un altro dov'è eccolo no 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 questo è il primo che va eliminato perché voi finite che iniziate a ammennare tutti gli altri a manetta e magia delle magie si sa come tutti gli altri riprendano vita come se non ci fossero stati problemi è una cosa fastidiosissima vi giuro no mi si è messo nel mezzo ma come si è permesso oh ma vi togliete oh stavo bruciando questo scuso questo coso sto shield io ecco qua ecco qua abbiamo fatto ragazzi andando nei domini Luca prima l'ho fatto sono andata in un dominio e ho potuto così accedere facendolo fino alla fine una delle ricompense ma dove esci è quella adesso vi faccio vedere sulla mappa dove l'ho fatto io così te lo puoi segnare guarda questo qua questo dominio qua vedi questo qua e a me mi dice adesso che l'ho fatto se te ci clicchi sopra ti dirà che tra le ricompense c'è una chiave ok attiviamo questo ragazzi e ta abbiamo pulito tutta l'area ottieni il tesoro al centro del cimitero di spade giusto in tempo per la chiusura perfetto scusami grazie ma figurati Luca sono qui apposta andata via ma sono tornata il nuovo account giusto esattamente è l'account secondario su cui facciamo la guida abbiamo fatto un po' di arcon questo adesso per continuare l'arcon questo devo livellarlo un po' quindi in questo fine settimana mi ci metto così che settimana prossima facciamo l'episodio l'episodio questo qua che vedete qua in cui siete partecipi anche voi uscirà sabato pomeriggio quindi dopo domani pomeriggio verso le 16 uscirà il video quindi non missatelo mi raccomando iscrivetevi su youtube perché almeno sapete quando sono i video attivando la campanellina e tutto il resto mi raccomando mi raccomando ora in labettina ci metteremo a fare titolo e copertina ah c'è grazie per la salva melody grazie mille grazie 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 ok andiamo qua e via perfetto e ci siamo cimitero e le spade al centro baule rossuoso missione completata 50 prime agents una prototype di una claymore che serve per craftarsi le armi e poi abbiamo fatto anche degli achievement interessanti 5 prime agents per questo la quest di prima 10 prime agents e poi se andiamo qui abbiamo anche queste prime agents qui che abbiamo fatto c'è un artefatto a 4 stelle che abbiamo sbloccato adesso 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 e anche segui 10 sili che abbiamo portato a posto prima tutte queste missioni le sono prime agents che si aggiungono tutte insieme e in definitiva siamo messi così adesso abbiamo i nostri personaggi 16 14 16 12 che liveleremo in questi giorni gli artefatti ovviamente sono quelli che sono le armi l'unica è quella di gina le altre non le ho ancora portate su perché sono appunto abbastanza scade tranne l'arco di favolius che è un pochino meglio e via allora io direi che qua in mezzo alle spade mi sembra un punto abbastanza poetico per interrompere la nostra avventura che dite mi sembra un punto corretto noi continuiamo settimana prossima con il prossimo episodio e spero come sempre vi siate divertiti cercherò di essere arrivata sicuramente al 18 per continuare l'arco in questo facendo le daily e farmando un pochino penso di riuscirci e niente io vi ringrazio tantissimo voi che avete guardato il video fino adesso e voi che siete stati qua in live con me il prossimo video uscirà la settimana prossima questo come sempre ritorna alla schedule del sabato visto che sono guarita e niente mi raccomando seguitemi su tutti i vari social per rimanere aggiornati e niente vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video di questa serie ciao ciao